Buonasera, Severino del Giudice, agricolo, contadino, agricoltore biologico dall'87, quindi è un po' di tempo che provo a coltivare seguendo queste tecniche e queste metodologie. L'ultimo intervento mi è piaciuto per la passione che c'è dietro. Mi sarebbe piaciuto fare un giro insieme con il signor Leandro in questi appezzamenti, perché abito vicino a Tomba. Non sono entrato nell'appezzamento perché so che Giorgio è un ininsuscettibile su queste cose, quindi non mi sono permesso di entrare nel suo appezzamento, però ho un amico che è di vicino, che forse anche lei conosce, Maurizio. E quindi abbiamo fatto una camminata, non siamo entrati ma siamo voluti. Io non so a livello di entomofauna cosa c'era, cosa non c'era, perché ripeto non sono entrato. Ho sicuramente però dei forti dubbi sul discorso delle micotossine. Perché? Perché guardando dalla capezzagna, quindi dall'altra parte del fosso che c'è, piccolino, tutta la prima parte delle piante di mais che si vedevano, con la punta rotta, brutta, come quelle di una volta che si tagliava la punta per poi fare la polenta. C'è qualcosa che non quadra? Sì o no? C'erano queste cose? Sì o no? Il Mono 810 di Fendor, ti confermo che c'era. No ma qui stiamo facendo tanta bagarre anche sul discorso delle micotossine. Il discorso delle micotossine secondo me è da valutare, perché qua sembra che con quel tipo di mais lì noi risolviamo il problema. Bene, questo è già un punto d'incontro che abbiamo, ma c'è un altro problema anche. Vi ho detto che io ho un'azienda agricola biologica. È vero che c'è abbastanza contrasto fra quello che dicono le varie forestali, statale, regionale. C'è del contrasto. Ma sicuramente credo che una cosa che non si possa mettere in dubbio è che una sorta di contaminazione accidentale nei terreni limitrofi è prevista. Credo che sia fantasioso pensare che non ci sia questa contaminazione accidentale. Molto fantasioso. Anche perché ho visto dei documenti di quelli pro-GM, di sperimentazione anche fatte qui in Italia, che se volete poi ve le dico dove sono. E Dio, c'è un inente di contaminazione, c'era, con tutte le precauzioni che erano state previste. Per legge, per legge, sapete che l'agricoltura biologica è l'unico metodo produttivo che è regolamentato a livello europeo. Abbiamo una legge. A parte paghiamo i soldi. Però c'è un regolamento. E il regolamento dice che il mio mais, se voglio venderlo come biologico, non deve avere una contaminazione accidentale più dello 0,9. Dico bene o dico sciocco al DSV-1? Dice bene, dice bene. Facciamo i piani di coesistenza. Benissimo, che è qui che dobbiamo arrivare. Però capite che posso partire da mille metri di distanza? Per avere la certezza, abbiamo la bora che tira qua. Quanti miliardi di granuli di polline ci sono su una pianta? Qualcuno me l'ha detto una volta. E mi ha detto anche che vivono molto poco questi granuli di polline. Un minuto. Un minuto. Nella media. Con il vento a 60 all'ora, dove vai un minuto a questo granulo? Un di l'ora, se la matematica è una cosa. Allora, secondo me... Secondo me... Secondo me ci arriviamo a una legge sulla coesistenza. Basta sapere da dove si parte. È chiaro che se voi iniziate a dirmi 10 metri sono sufficienti, io comincio ad avere qualche perplessità e dubbio e sarò molto arrabbiato quando andremo a discutere di queste cose. Un'altra piccola considerazione, ma che penso sia condivisibile, insomma. Se abbiamo questa contaminazione con 6.000 e 7.000 metri coltivati, con... Allora, adesso abbiamo circa 80.000 ettari di mais qui in regione, il 10% si può ipotizzare che verrebbe già da subito, no, GM? Sì, perché ci sono tanti agricoltori che vorrebbero iniziare a farlo. 8.000 ettari di mais? Cosa significa per il mais del Friuli Venezia Giulia, secondo voi? Che non esisterà più o GM Free. E che io non potrò certificare il mio mais come biologico. E questo mi secca? Mi secca molto? Poi non potrà mai succedere, perché sarebbe un danno... Benissimo. E allora siamo d'accordo quasi su tutto, eh? Abbiamo già risolto il fatto il piano di coesistenza. C'era una mano... Però a me sembra veramente allucinante che continuiamo a paragonare il mais o GM, l'alternativa o GM con la monocultura esistente. Credo che sia chiaro che la monocultura utilizzando la chimica semplicemente non ci deve essere. Quindi non è quello il paragone fra lo status di oggi della monocultura con l'utilizzo di diserbanti, chimica di sintesi, eccetera, e gli OGM. E quello non è neanche un cambiamento. Il cambiamento che ormai c'è tra fare e non fare più la monocultura e cambiare sistema. Non continuiamo a paragonare, perché non è che qui stiamo a difendere lo status quo di come si coltiva il mais oggi. Quello non è nelle nostre corde e non è quello che vogliamo fare.